Valeria Mancinelli, sindaco di Ancona. Sindaco, di solito mi faccio delle domande io, no? Quando uno è sindaco di una città, che oltre a essere città è anche porto, ha dei problemi? Ha dei problemi e delle opportunità. Come sempre, nella vita spesso quello che è un problema potrebbe anche essere un'opportunità. Per noi è così. Il porto è sicuramente, tra virgolette, un problema nel senso che per i traffici che attrae, e per la movimentazione dei merci e persone, per esempio, pone un problema molto serio di ingresso e di viabilità alla città. Su questo non c'è dubbio. Ma ha anche una grande opportunità perché è in realtà la più grande azienda produttiva delle marche. E non solo delle marche. E quindi ogni mattina entrano in porto 5.800 persone che lavorano là e quindi è sicuramente anche una grande leva possibile di sviluppo. In questi ultimi anni, in questi ultimi mesi, questo secondo aspetto sta nettamente prevalendo. Ci sono previsti interventi importanti, probabilmente investimenti molto, anzi annunciati, molto significativi, quasi di raddoppio della capacità produttiva del cantiere navale, il vecchio arsenale. Si parla quindi di centinaia, centinaia, centinaia di possibili nuovi posti di lavoro. Il termine al crociere, la realizzazione del cosiddetto on port per la MSC, che è il primo operatore mondiale delle crociere per questa zona ovviamente dell'Adriatico e dell'Egeo. Insomma, il porto, certo, anche con qualche problema, ma sicuramente come una grande, grandissima leva di sviluppo. Senta, signora, oggi diamo il via nella sua città anche a un potenziamento ferroviario, ne aveva proprio bisogno. Sì, ne aveva proprio bisogno, ma dico di più, anche qui l'opportunità è quella che attraverso, utilizzando, diciamo così, la leva delle opere, di una parte delle opere necessarie per il potenziamento, la velocizzazione della linea ferroviaria nell'ingresso a nord della città, si andrà a realizzare con l'accordo di programma che si sottoscrive oggi, quindi con i soldi che oggi vengono impegnati, perché questo è il dato vero, se no rimangono belle intenzioni, si andrà a realizzare un interramento a mare molto significativo in uscita a nord della città e la realizzazione, lo spostamento della ferrovia, e la realizzazione di un grande lungomare a nord della città. Quindi anche questo in perfetta adiacenza e adierenza al porto turistico della città. Quindi anche questa di oggi è proprio concreta, perché oggi qui si firma e ferrovie dello Stato, autorità portuale, comune, ministero, mettono giù i soldi.